Ciao a tutti e bentornati sul canale, questa è la versione in italiano dei miei video dei cast review che faccio sui modelli che escono in edicola, della Centauria io come dico sempre non sono un grosso fan delle Formula 1 moderne in questo caso non ho resistito perché in edicola poco tempo fa siamo ad aprile il momento in cui è stato fatto questo video è aprile, pasqua diciamo del 2023 mi sono trovato in edicola in un posto, ero riccione, quindi figurate che riccione parlare di modellismo, vabbè, e niente mi sono trovato in un'edicola vicino a casa mia a questo modellino, ho detto va bene dai una Ferrari, vabbè non è il massimo perché è proprio una Ferrari che non ha senso, cioè una Ferrari del 2012 quindi di 11 anni fa, di Alonso, che sì vinse credo un paio di gare cioè una macchina che comunque alla fine era andata bene ma personalmente una forse delle più brutte Ferrari che sono state fatte con quel davanti orrendo fatto a becco di papero, di gabbiano perché queste erano le serie che avevano le sospensioni le push road se non sbaglio, c'è scritto comunque nel poscolino quindi tutto il gioco sospensioni diventava uno schifo del genere quindi li obbligavi in pratica ad avere una linea alta quindi il frontale della macchina è fatto così da lontano la macchina è un bel modello verniciata come al solito bene, sono verniciate a fuoco le decal sono tampografate, quindi non sono le decalcomanie con il film sono stampi, sono stampi che vengono fatte in tampografia sui modelli e quindi non avete il film delle decal credo che sia un burago perché è la parte positiva del modello cioè il look da lontano, i bei colori, il lucidone dato sulla carrozzeria sono gli unici lati positivi di questo modello poi vi è un infinito di lati negativi lati negativi che sono come sempre, credo che sia una produzione di burago visto lo schifo della qualità il problema più grave di questo modello è il montaggio che è fatto realmente male in questo caso vedete che dall'alto modello appena preso, è questo modello appena aperto che vedete qua, con la sua teca queste sono le scatole sono le serie da 30 euro quindi sono quelli che ne ho fatto quel prezzo del cazzo lì prezzo all'americana, all'inglese 29,90 su 30 euro sono 30 euro ed è differente dall'altra serie delle Formula 1 normali che ne costa 25 perché i 5 euro di differenza sono dati dalla teca trasparente e ci sta perché è una teca così la potete usare anche per altre auto in 1.24 quindi questa è fatta in genere per i Formula 1 moderni i Formula 1 moderni che sono abbastanza uscene come macchine la stessa serie io credetemi non so neanche chi sia l'attuale campione del mondo di Formula 1 Verstappen forse, non sono sicuro so che fino a qualche anno fa c'era la monotonia di Hamilton con Mercedes poi hanno cambiato, non lo so non li seguo più è diventata una cosa imbarazzante non mi piace più la Formula 1 a me diciamo da quando è morto Senna in avanti dalle macchine di Schumacher così era bello vedere quando correva Schumacher perché comunque parliamo oramai di 20 anni fa era noioso ma in positivo perché essendo italiano ti fa sempre piacere vedere che le rosse portano la monotonia perché vincono costantemente loro c'erano se non da sbaglio le serie 2001, 2002, 2003 quelle Ferrari lì le F2003G erano tutte Ferrari ipervincenti che vincevano facile poi era sempre l'evoluzione della stessa macchina quindi non avevano stravolgimenti di regolamento quindi la Ferrari aveva vinto di brutto con Schumacher ed era bello vedere quella monotonia lì poi la monotonia si è cominciata a ripetere con Hamilton e con la McLaren con la Mercedes che prima era McLaren-Mercedes poi ha fatto Mercedes-Sanfatti Suoi è diventata una palla mostruosa non è un segreto che io non la seguo però come dicevo me la sono trovata in edicola ho detto compriamola vedo che il montaggio come dicevo è fatto col culo c'è di inaccettabile al di là di tutto il modello fatto complessivamente male cioè la parte di decal, tampo e verniciatura è una parte tra virgolette industriale nel senso che questi modelli vengono verniciati e tampografati in serie e poi messi nel forno per avere una parte la parte diciamo la parte colorata del modello è fatta a livello seriale perché i forni dove vengono prodotti questi dei CAS sono relativamente grandi quindi dentro il forno si mettono una cinquantina di modelli poi adesso io non ho idea di burago anche se riprende il nome di burago morgora è a tutti gli effetti una burago cinese quindi si chiama builago builago china e quindi sono tutti fatti là c'è caso che loro abbiano dei forni enormi il forno viene usato perché quando si fa vernice poliuretanico vernice particolarmente resistente con sopra un lucido il lucido che usano questi produttori come il 99% delle macchine che comprate anche quelle proprio del cazzo da autogrill è tutta roba che viene verniciata con una resina trasparente che necessita di all'incirca dei 40 ai 50 gradi per catalizzare quindi per catalizzare viene messa esattamente come le verniciature che fanno i carrozzieri a base acrilica vengono messe nel forno ci stanno per una quindicina di minuti giusto per avere una botta di caldo che catalizza questa diventa un cristallo e poi si può andare avanti alla lavorazione il cinesino si mette i guanti lavora e fa la merdata che potete vedere nel senso che i dettagli sono poverissimi queste Formula 1 avevano il gruppo antenna antenna radio gps pitot tutte quelle cagate lì che in realtà sono delle antenne che sono come dei capelli il pitot è un ago nella realtà qui è un palo l'antenino centrale ha anche lo stampo la linea di vedete lì la linea di distacco dallo sprue in plastica soprattutto poi il montaggio finale è fatto veramente male almeno nel mio esemplare perché queste qua in genere come dicono in tanti bisognerebbe già in edicola ti guardano come il matto che a 50 anni gioca ancora con le macchine però quando le vai a prendere bisognerebbe perdere 10 minuti se c'è la possibilità perché tante volte di queste ne trovate una in fondo dove una volta mettevano i porno adesso mettono le macchinine è sempre quello e quindi prendete quello che trovate quando la trovate perché in tante edicole in giro per l'Italia questa è una serie prevalentemente italiana che esce con Centauria nelle edicole italiane quando la trovate tante volte non trovate direttamente niente la dovete ancora peggio chiedere all'edicolante quando ha voglia se l'edicolante non ha voglia vi rimane il sito di Centauria o primaedicola.it il modello probabilmente se è recente e siete fortunati vi arriva le Ferrari tendono a finire sempre qualunque cagata di Ferrari in Italia la vendono sempre perciò se vi arriva una cagata del genere con l'ala montata così da uno scappato di casa e l'estrattore sotto guardate com'è Formula 1 sono macchine che sono precisissime nella realtà non hanno tolleranze non c'è proprio ma neanche non c'è neanche il gradino delle insegne le scritte e gli sponsor sono fatti con una plastica particolare poi a loro volta glassata perché fu calcolato in passato questo già nei tempi di Schumacher perché il gradino che si crea per esempio su un alettone potrebbe generare una resistenza aerodinamica che darebbe fastidio alla vettura e quindi viene glassata anche quella quindi è per quello che la glassatura della macchina qua l'hanno fatta bene vedete per esempio la scritta c'è il riflesso della lampada guardate lì quello è perfetto dico ma cazzo ma montala bene un modello del genere hai fatto 30 fai 31 no perché perché è roba che deve costare un cazzo in origine e quindi per costare 30 euro in edicola questa presariccione quindi immaginati che cazzo ti puoi vendere un edicola è montata malissimo ma male 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 non vi è ma neanche nessuna traccia di un abbozzo di fibra di carbonio in giro queste sono macchine che non hanno un pezzo che non è fatto in carbonio quindi e poi vi trovate un montagione finale che ripeto è una tombola del genere guardatela dall'altro è inaccettabile un discorso così cosa fai la riporta l'edicolante hai aperto il blister per lui è invendibile anche perché l'edicolante non è che prende come facevamo noi dei negozi di modellismo le mettevi da parte e le rendevi a chi te le ha vendute con tutto un iter che c'era dietro la scrivania di fai l'ordine riprepari il materiale rifai la spedizione rimandagliele indietro per 30 euro non è vale la pena quindi cosa fa il negoziante tante volte l'edicolante ti dice sì sì sei blisterata ti dice sì sì prende in un'altra ma poi lui quella lì se la vende perché comunque per lui l'importante è che vada fuori poi queste tante volte vanno in mano ai collezionisti oggi dato che tutto è diventato non competitivo tutto è diventato allo stesso livello qualunque stronzo che compra materiale si sente un modellista e non sei un modellista sei uno che colleziona roba anche di basso livello come questa Ferrari la cattiveria mi sta facendo passare la voce la cattiveria non è covidi la cattiveria la cattiveria e quindi è triste perché voglio dire il modello poteva essere fatto parecchio meglio le ruote sono ripinanti sembrano sembrano le ruote dei mock-up che vedevamo al motor show quando si andava lì c'era una piccola parte di Formula 1 vere e la stragrande maggioranza di macchine di Formula 1 che vedevi al motor show al motor show non so neanche se lo fanno ancora non credo quello che facevano a Bologna mi ricordo gli anni 90 quando col mitico Piotr andavamo giù in pieno inverno sfidando nebbioni ghiaccio dei freddi atomici per vedere un po' di fica e per vedere qualche macchina così però quando guardavate i Formula 1 erano quasi sempre dei mock-up quindi non c'era la Formula 1 vera perché a uno bastava vedere la forma ui guarda c'è la forma vera le ruote erano dei plasticoni esattamente come questi anche loro con la riga dello stampo in mezzo riga dello stampo che è un pugno in un occhio da vedere è oscena ora non ha neanche senso dire staccala dalla base queste hanno già quelle sono le viti triangolari ci sono i cacciavitini poi se non non è proprio una scimmia anche con un cacciavite normale a testa piatta andando piano lo riesce a svitare c'è qualche minchioso che fa fatica spacca tutto demolisce la base poi si incazza perché non sa non capisce che ci vuole una punta così ma ci sono cacciavitini che modelli seri in genere lo mettono anche già direttamente dentro la confezione se lo comprate su ebay un cacciavitino a testa triangolare costa un mezzo schiaffo ma neanche e quindi dispiace ripeto mi dispiace perché se l'avessi vista così già il modello non è di quelli che mi fa impazzire l'ho preso perché come i bambini come i drogati quando vedi la macchina rossa dici vabbè senti tra il caffè la brioscina mettici dentro cambia un cazzo spendere 30 euro in un modellino del genere però questa volta la qualità per me è pessima di un modello del genere ed è un peccato perché ripeto la finitura della carrozzeria se a un modellista bravo gli dei una carrozzeria finita così con tutti i dettagli da completare lui smontati vi tira fuori un modello con i controcazzi qui probabilmente il disgraziato che l'ha montata queste sono sempre montate dove ci sono le sedi di montaggio di cosa stiamo parlando ok ritratto tutto in Bangladesh per mezzo dollaro va bene tutto bene così modello fantastico bella e bellissima questo è quanto quindi questa volta il modello è credo che poi siano già anche esauriti perché poi queste qui fanno anche molto molto svelti a sparire dall'edicole perché quando sono Ferrari comunque vanno l'ho presa per avere forse la formula 1 dei Ferrari più brutta che sia mai esistita questa per me è più brutta di quella di adesso è più brutta dei sigari degli anni 60 questa è la più brutta di tutte macchina che non ha vinto un cazzo si aveva fatto bene durante la stagione ma non ha vinto perché è vero che nel 2012 cos'era anno di Vettel forse campione del mondo boh boh dico Vettel perché l'ho letto non è che so io che nel 2000 non so neanche con chi correva non era quello che era venuto alla Ferrari comunque niente questa è pietosa e se proprio proprio siete dei drogati come sono un drogato io prendetela se no fate bene anche senza alla prossima grazie a tutti grazie a tutti